Ma che siamo in diretta? Ah, vabbè, scusate, scusate, ragazzi, finalmente un grandissimo disco di jazz, basta con tutte queste ristampe che non se ne può più, finalmente quello che aspettavamo, guardate qua, vi state in mente questi quattro grandi musicisti, Brad Mendoz, Christian McBride, Brian Blade e il grande Joshua Redman, questo è il nuovo disco che state sentendo, è una cosa strepitosa con tutti i brani composti da loro, basta con questi standard, non ne possiamo più, questo è il perfuto del jazz, un grandissimo disco su Monzaccio, ci ha brammentato e suona 5.000, una cosa fantastica, erano anni che non sentivano un disco del genere, c'è speranza e noi siamo tutti ottimisti, ma ripeto, basta con quelli che copiano, questo è il futuro del jazz.